Enrico De Paulis oggi una bella vittoria per l'Olympic Marina che vince col città di Cisterna. Sì, è stata una buona prestazione, è stata segnata da un inizio un po' sfortunato, sul loro primo gol dava una deviazione di calvo, però la squadra ha saputo mantenere i nervi caldi a differenza di molte altre volte e ha giocato come ha saputo giocare e ha riuscito a condurre la partita per grandi tratti. Un Olympic Marina che si è un po' rinforzato veniva da una situazione abbastanza complicata in classifica ma adesso sembra riapirsi un altro campionato. Ma sì, il nostro, come sempre, già dall'inizio diciamo che il nostro obiettivo era quello della salvezza e sembra che quello rimane, anche viste le condizioni della squadra e poi le difficoltà avute inizialmente per creare un ottimo organico, però siamo sulla giusta strada e possiamo farcela. La prossima arriva una neocapolista, la SD Minturno, che oggi hai visto giocare, quindi un derby che diventa ancora più emozionante. Ma siamo lieti di ospitare i nostri gemelli di Minturno, la Vink è il migliore, tutto qui, sarà difficile. Come andrà questo campionato facendo una piccola previsione? Ma mi auguro una vittoria del Minturno che secondo me è superiore a tutte quante le squadre almeno fino ad ora viste e sicuramente un Olympic Marina salvo. Ok, grazie. Prego. Arrivederci.